superare i nostri limiti è impossibile lo abbiamo pensato al novantesimo all'azteca nel 1970 al fischio d'inizio col brasile in spagna quando nel 2000 eravamo in dieci contro muro arancione al centoquindicesimo di dortmund che ci sentivamo piccoli piccoli lo pensiamo tutti i giorni al tasto di accensione eppure quando ci sono in gioco le emozioni non ci sono limiti forza azzurri playstation